Ridonare al Tempio G di Selinunte la sua maessosità, recuperare la sua storia, riconsegnargli la sua posizione predominante. È un progetto che passerà alla storia, quello a cui si sta lavorando al Parco archeologico siciliano, lo stesso che qualche mese addietro è riuscito a ridefinire la sua agora, 33.000 metri quadrati. Enorme come enormi erano le architetture. Il Tempio G che risale al V secolo a.C. è lungo ben 109 metri e largo 50. Ciascuna colonna era alta oltre 16 metri e l'intero edificio raggiungeva circa 30 metri. La costruzione durò alcuni decenni e i suoi elementi non vennero mai rifiniti ma era completo nella sua struttura architettonica in uso. Crollò probabilmente per eventi naturali, forse alcuni terremoti soprattutto in età medievale. Su proposta all'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, il governo regionale uscente, con un finanziamento di 5 milioni di euro, ha approvato già da tempo il progetto di valorizzazione del Parco archeologico di Selinunte, che prevede un grande intervento di studio e di restauro. Entro fine anno la regione pubblica era alla gara per dare il via al grande cantiere mirata ad acquisire nuovi dati e conoscenze sul Tempio Selinuntino, al restauro e ricomposizione di alcune parti, fra cui le tre gigantesche colonne del lato meridionale, di cui sono stati individuati con certezza gli elementi strutturali, che saranno ricollocate con i relativi capitelli. E sarà anche recuperata il fuso della vecchia, la colonna restaurata nel 1832 dallo scultore Valerio Villareale, su commissione del Duca di Serra di Falco.